Buongiorno e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro web TG. Fiori, un orsacchiotto di peluche ed un bigliettino con la scritta Ciò Melissa rimarai sempre nei cuori di chi ti ha amata. Erano questa mattina sul banco di Melissa Bassi, la ragazzina rimasta uccisa dall'esplosione di un ordigno sabato mattina a Brindisi, in cui sono rimaste ferite altre 5 studentesse. La scuola, la Morvillo Falcone, ha riaperto proprio nel giorno del funerale di Melissa, che si terrà questo pomeriggio nella chiesa madre di Misagne. Intanto le compagne della ragazza si sono ritrovate stamani nel piazzale dell'attentato, dove, sostenute da assistenti sociali e soprattutto dagli insegnanti, si sono raccolte commosse in ricordo della studentessa uccisa. E prosegue incessante la caccia all'attentatore. Vediamo gli ultimi aggiornamenti dalla procura di Brindisi. Uomo in giacca e camicia, sui 50-55 anni. Secondo la procura di Brindisi, è questo l'identikit dell'attentatore che avrebbe fatto esplodere le due bombe davanti la scuola a Morvillo Falcone, in cui è rimasta uccisa Melissa Bassi. Avrebbe visto le ragazze e premuto il pulsante del telecomando che ha azionato la bomba. Almeno stando a quanto raccolto dalle immagini registrate da una telecamera nei pressi della scuola dove è avvenuto l'attentato. In quel video, ha spiegato il procuratore capo Marco Di Napoli, c'è l'identikit dell'attentatore. Abbiamo dunque acquisito delle immagini significative che aprono uno spiraio in questa storia. Ci consentono di... viene uno squarcio di luce, ci consentono di dire che non navighiamo al buio. Ci consentono di fare degli approfondimenti mirati, però siamo ancora lontani dalla meta. E una bomba carta invece esplosa la scorsa notte all'interno di un cassonetto dei rifiuti nei pressi di un seggio elettorale a Rapallo, in provincia di Genova. L'episodio è avvenuto intorno alle tre nella piazza del comune. Poco prima, due auto della polizia municipale erano state incendiate. L'azione per gli investigatori è dolosa. L'esplosione della bomba carta è stata tanto fragorosa da far scendere in strada diversi residenti della zona. Sul posto hanno operato tutte le forze di polizia e i vigili del fuoco. Ed anche per adesso è tutto. Aggiornamento con una prossima edizione di Unica Channel. A tutti voi, arrivederci.